Ancora una volta la Grosso Vacanze ha la sua proposta eccezionale. Si tratta di un Challenger Genesis 43. Il veicolo è stato immatricolato nel 2008, ha percorso solo 77.000 km ed è montato su Ford Transit 2230 CV, quindi trazione anteriore e parco nei consumi. In soli 6,5 m può ospitare comodamente 6 persone sia a viaggiare che a dormire. È dotato di tutti i comfort a partire dal pannello fotovoltaico, alla veranda, al portabici e il riscaldamento a gasolio. I letti e castello trasversali possono essere trasformati in garage che può ospitare comodamente uno scooter. Il veicolo viene proposto con una garanzia valida in tutta Europa senza franchigia sul motore, cambio, parti elettriche, cellula e utenze. Può essere vostro a soli 24.900 euro, voltura compresa. Vi ricordo, permutiamo il vostro usato e potete finanziare l'intera cifra senza alcun anticipo con un finanziamento massimo della durata di 96 mesi. Per saperne di più vi aspettiamo qui alla Grosso Vacanze oppure in videochiamata sul nostro numero Whatsapp.